Ti è mai capitato di utilizzare un sito web o un'app complicata e di voler dire a qualcuno cosa si potrebbe fare per migliorarla? Ti piacerebbe guadagnare qualche soldo extra facendolo? Se hai risposto di sì a queste domande, potresti essere il prossimo membro della community di Userlytics, che conta oltre un milione di tester dell'esperienza dell'utente. Entrare a far parte della nostra community di tester è un modo facile, divertente e flessibile per migliorare la fruibilità di siti web e app, rendere il mondo più semplice per gli utenti e guadagnare qualche soldo in più. Userlytics è una piattaforma remota di test di fruibilità. Grandi marchi di tutto il mondo utilizzano i nostri test di fruibilità per migliorare l'esperienza dell'utente e l'usabilità dei loro siti web e app, al fine di assicurarsi che siano il più user-friendly possibile. È qui che entri in gioco tu! Come membro della nostra community di tester, prenderai parte a degli studi di fruibilità che si concentrano sulla tua esperienza interagendo con un sito web o un'app. Risponderai ad alcune domande e svolgerai delle semplici attività per indicarci ciò che è confuso, ma il concepito ho spiegato male. In media, uno studio richiede circa 20 minuti e non ci sono risposte giusto o sbagliate. Tutti i feedback sono importanti. Durante lo studio, il tuo schermo verrà registrato e dovrai esprimere i tuoi pensieri ad alta voce. Per alcuni esercizi ti chiederemo anche di condividere la tua webcam. Migliaia di partecipanti utilizzano le nostre app ogni giorno. Le registrazioni e i dati dei test vengono utilizzati solo per migliorare la facilità d'uso dei siti web e delle app in fase di test. Che tipo di siti web o app testerai? Grandi aziende e marchi famosi lavorano con Userlytics per convalidare l'esperienza dei loro utenti durante la navigazione delle loro app e nei loro siti web. In cambio del tuo tempo, riceverai ogni volta un compenso monetario depositato direttamente sul tuo conto PayPal, che può spaziare dai 10 ai 150 dollari. Fornendo il tuo feedback durante i test di fruibilità, aiuterai le aziende a evitare gravi errori come web design mal progettato, testo confuso o informazioni difficili da trovare. La tua partecipazione contribuirà a rendere il mondo più facile da usare. Allora, cosa stai aspettando? Visita www.userlytics.com slash testers slash sign up per entrare a far parte della nostra community di tester. È semplice, veloce e gratuito.